Prove tecniche di autoritarismo, spunta la norma che impedisce le manifestazioni, ad esempio. Per il reato di blocco stradale si prevedono sei anni di carcere o addirittura dodici se chi lo fa non è da solo. Quindi praticamente se ti attardi sulle strisce pedonali da solo sono sei anni, ma se c'è anche tua cugina sono dodici a testa. Sulla lemosina poi è bellissimo perché il decreto sicurezza va giù ancora più dritto. Si rischiano tre mesi di galera, l'esilio dalla città e la multa fino a 6.000 euro. Se fai l'emosina, ora se ci pensi, se uno ci avesse già 6.000 euro in tasca per pagare la multa, secondo te cazzo fa l'emosina? Ma il decreto è pieno di tutte queste cose simpatiche, no? Se tu occupi abusivamente case o terreni rischi due anni se sei da solo o quattro se ti porti dietro anche la cugina di prima. Io voglio dire una cosa di Maio. Gigino, ti ricordi i vostri presidi 5 Stelle che avete fatto in Val di Susa contro la Tav o in Salento contro la Tav? No, te lo ricordi Gigino? Ecco, che non vi venga in mente di farne altri perché oggi si tratterebbe di occupazione dei treni e Salvini vi arresterebbe tutto, tutti. Ok, ora credetemi, dopo il decreto sicurezza ci sono i maggiori politologi del mondo che sono preoccupati per noi. Ma non politologi di secondo piano, no, no, è gente di livello, alti costituzionalisti della California. Pamela Anderson attacca Salvini su Twitter. Grazie Grazie.